A poca distanza da Casal Maggiore sono tanti residenti di Vico Boneghisio che ogni giorno, più volte, devono percorrere il cavalcavia per raggiungere il posto di lavoro, la scuola, le attività sportive. Nonostante le richieste arrivate al Comune per la realizzazione di una pista ciclabile, la risposta è sempre stata negativa. Così una pista per due ruote c'è ma si ferma in un fosso, mentre le biciclette sono costrette a rischiare nell'attraversamento del cavalcavia a fianco di trattori e tir. Una situazione insostenibile per cui molti non si rassegnano e tornano a interessare la giunta. La distanza è realmente poca da qui a Casal Maggiore, però chi ha la bicicletta non può arrivarci. No, pochissima effettivamente, forse meno di un chilometro, ma c'è un alto sovrappasso molto ripido che in bicicletta è, oltre che pericoloso perché non c'è il passaggio, è anche molto molto faticoso. Quindi chi non ha la macchina sostanzialmente da questa frazione non può andare al capoluogo. Penso a ragazzi che vanno a fare allenamento, penso a persone anziane che vanno a fare la spesa, se non hanno la macchina non ci vanno. Qui abbiamo la ciclabile che finisce, come vedete, al fosso e che non prosegue, quando invece ci sarebbe la possibilità di farla proseguire anche verso la strada che c'è a sinistra e attraversare anche la ferrovia. C'è anche ultimamente la proposta da parte delle ferrovie di togliere un paio di passaggi a livello e in compenso fare dei lavori che potrebbero essere utili e questo potrebbe essere un lavoro utilissimo, appunto il sottopasso per creare finalmente una ciclabile che è attesa da anni e anni da questo paese. Speriamo che l'amministrazione accetti questa offerta di RFI. Dove passa una strada importante come questa, taglia il paese e a fianco non c'è nessun passaggio pedonale, quindi neanche piccoli marciapiedi, la frazione va morendo, le case sono abbandonate una dopo l'altra. Da parte sua il sindaco Bongiovanni non è favorevole alla ciclabile perché ritiene che non si debba coprire fossi, ma soluzioni alternative dovrebbero essere studiate secondo i cittadini.